Previsioni meteo per mercoledì 5 agosto. Al nord si rinnovano condizioni di bel tempo prevalente eccezione fatta per annuvolamenti a ridosso dei rilievi con locali fenomeni diurni sul nord dorsale, alpi e prealpi. Al centro prosegue la fase di bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi da segnalare cumuli a sviluppo di urlo a ridosso dei monti. Al sud ancora bel tempo prevalente clima estivo al meridione, acquazzoni o temporali nel pomeriggio su Salento, Lucania e Meridione. Venti deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi o mossi a largo, temperature stazionarie.